Ben trovati con le notizie di sport di ATV Marche in questa edizione che apriamo parlando di calcio con le novità in casa Fano e Fermana. Intanto l'alma corre sempre dietro ad un futuro nebuloso, soprattutto scuro, quasi buio, dopo la decisione del patron Gabellini di mollare dopo la retrocessione in Serie D. E proprio il patron Gabellini è tornato a farsi sentire dalle colonne del proprio sito ufficiale del club con un nuovo comunicato stampa in cui fa il punto della situazione, potremmo dire. In riferimento scrive alle notizie apparse sugli organi di stampa, permettendo che sono trascorsi 30 giorni da quando ho annunciato il mio disimpegno da Presidente. In questo periodo sono stati diversi soggetti che hanno manifestato interesse nel voler acquisire il pacchetto azionario del club, ma nessuno ha dimostrato, dice Gabellini, con diverse idee ed ipotesi di poter rispondere adeguatamente e completamente alle necessità dell'alma. Fino ad ora nessun progetto a me proposto è in grado né di sostenere un campionato di Serie C, visto che l'alma avrebbe ampie possibilità di essere riammessa, né di disputare un campionato di Serie D. L'imprenditoria fanese in generale nel nostro territorio, chiamata ad assumersi la responsabilità di guidare il futuro del club Granata, di fatto non si è nemmeno interessata a trovare una soluzione solida e credibile. Di qui l'avvertimento di Gabellini, questo silenzio è un chiaro segnale di come la storia di questo club si spegnerà dopo più di 100 anni. Non è opportuno e auspicabile che ci sia sempre qualcuno armato di buona volontà che rimetta le cose a posto. Il destino dell'alma oggi non cadrà dal cielo, ma deve essere costruito con impegno e volontà. Una Gabellini che ribadisce dunque il suo allontanamento dal Fano, aspetta ma denuncia il fatto che non siano arrivati ancora segnali ben precisi dall'imprenditoria fanese che fino a questo momento gli interessamenti di soggetti vari non siano confinati con un progetto serio, comunque con una proposta di acquisizione dell'alma Fano. Di tutt'altro invece tono il comunicato ufficiale della Fermana che annuncia il rinnovo biennale per il direttore sportivo Massimo Andreatini. Dunque fino al 2021, almeno, l'esperienza in giallo-blu del DS Romagnolo che diventa sempre più una figura preziosa. Sono onorato di far parte di questa società, ha dichiarato Andreatini al sito ufficiale. In questi anni si è creato un legame difficile da spiegare. Vivere il mondo fermana significa vivere qualcosa di magico per me perché si unisce la semplicità del gioco del calcio ad un'agenda molto attenta a quello che necessita calcio professionistico. Ancora mercato in questo caso però di Serie A1 di volley femminile con l'Allardini-Filotrano che batte un altro colpo e sta davvero completando il puzzle della Rosa per il prossimo campionato di Serie A1. Questa volta l'annuncio riguarda l'attaccante Marika Bianchini classe 93 la scorsa stagione a Monza, Fiorentina di Bagno, Aripoli, cresciuta nel settore giovanile della società di casa. 179 le battute vincenti nelle competizioni di Serie A e spero di farne tante altre, dice la Bianchini. Sono veramente contenta di questa scelta che mi sarebbe piaciuto fare anche prima in carriera e della fiducia che mi è stata data in un ruolo che mi piace ma che con continuità non facevo da diverso tempo. Sebbene ho avuto modo in questi anni di entrare come banda e soprattutto mi sono sempre allenata per non perdere l'abitudine alla ricezione. Sono felice di ritrovare quella che è stata la mia compagna a distanza in riferimento a Laura Partenio con cui ha condiviso al Club Italia la sua esperienza e la prima parte della scorsa stagione a Monza. Tanti miei colleghi mi hanno parlato molto bene di Filotrano, di una società che vuole crescere e sono contenta di far parte di questo progetto. Marika Bianchini dunque nuova attaccante della Lardini Filotrano. Sempre di volley ci occupiamo, in questo caso però per occuparci o meglio per parlare dell'onoreficenza che la Regione Marche ha concesso alla Conero Planet Volley Ancona per il raggiungimento del traguardo del campionato marchigiano sia under 16 che under 18, un settore giovanile quello della Conero Planet che dunque ha conquistato due allori in campo marchigiano rappresentando la Regione alle finali nazionali e di conseguenza un settore giovanile che sta diventando fiore all'occhiello nel panorama della pallavolo marchigiana chiaramente giovanile. Gli eventi di sport ora in estate torna da domani sera, quello più atteso per quello che riguarda il futsal ovvero il città di Ancona, trofeo estra in Piazza Pertini, tanti big della disciplina, un nome importante come quello di Salvatore Mastro Nunzio che farà da richiamo per tanti tifosi dell'Anconitana, ma non solo futsal però in piazza perché ci saranno tanti altri sport. Ci sono tutte le premesse per un'altra grande città di Ancona, 24esima edizione, trofeo estra che si conferma al nostro fianco per l'undicesimo anno di fila, organizzato dall'Ancondorica insieme a noi della MMAG Comunicazione. Iniziamo mercoledì 12 giugno, finalissima venerdì 28, quasi 20 giorni molto intensi perché saranno pochissime le pause, con tutti i migliori giocatori di calcio 5 delle squadre marchigiane, più una stella del calcio 11 che è un nome che farà felici tutti i tifosi anconetani, ma non solo, Salvatore Mastro Nunzio che sarà in una squadra alla Diamond Tattoo, pronta a dare il suo contributo e quindi anche per i tifosi dell'Anconitana una bella soddisfazione. Qualche altro nome invece del Fuzza? Per quanto riguarda le marche ci sono tutti i migliori, dalla Serie 2 ci sono Pier Simoni, Silveira della Tenax, Del Cobace, Sgupambers Golastra, tante volte capocanonire anche del città d'Ancona, e poi i migliori del Cus Ancona, quindi Belloni, Carnevali, Fioretti, Vittori, adesso sicuramente ne scordo altri, però insomma tanti giocatori fortissimi, più una stella del calcio 5 italiano, Paolo Cesaroni, nazionale azzurro, ormai fisso da tanti mesi, anzi da alcuni anni, gioca nella Lollo Caffè Napoli e viene apposta per giocare a città d'Ancona, questo la dice lunga su quanto appetibile sia la manifestazione, e su quanto appetito ci sarà in Piazza Pertini perché si potrà mangiare e bere tutte le sere, come al solito nel chiosco dell'Ancon Dorica. Consentimi di ringraziare, oltre alla Estra Main Partner che dà il nome al torneo, ma anche altri partner importanti come la Delta Motors e Maracana Sport che insieme all'Agla faranno, Maracana Sport è la sponsor tecnico, Agla con i suoi prodotti sarà presente al torneo di Piazza Pertini. La 24esima edizione è ancora più entusiasmante, ancora più completa dal punto di vista delle discipline sportive, con tanto entusiasmo, inizieremo con il calcio a 5, ma poi ci sarà spazio per la serata con la grande box del 5 luglio, poi avremo i nostri amici dell'occhio in sedia a rutella del capitano presidente Stefano Chialini, poi tanto basket giovanile, tanta ginnastica, tante iniziative, avremo anche la parte del burraco, quindi veramente un Piazza Pertini che si presenterà veramente tirato a lucido ancora più del solito, tantissimo entusiasmo e quindi aspettiamo tutta la cittadinanza a venire a vedere tutti questi atleti in questo mese e mezzo di serata. Ci occupiamo di rugby al femminile con la presenza del CT della Nazionale presso la sede della Banca di Macerata, main sponsor della formazione di rugby cittadina. Facciamo una giornata dedicata al rugby dalla femminile ai più piccoli a seguire la seniors, ci auguriamo che sia una bella giornata, che tutto vada a bene, in meglio, e oggi abbiamo sentito anche buone notizie dal fronte comune per la nuova struttura, aspettiamo ora delle risposte un po' più precise e ringraziamo ancora la Banca per il sostegno che ci sta dando. Sono state le parole di Rolando Mozzoni, presidente del Banca Macerata Regmi, all'inizio di una splendida giornata di festa con un ospite d'eccezione per la società maceratese, Andrea Di Giandomenico da dieci anni, commissario tecnico della Nazionale femminile di rugby, squadra capace di arrivare seconda all'ultimo sei nazioni. L'ex-regbista aquilano ha sottolineato il crescente sviluppo del rugby al femminile sia grazie al grande valore dei club che della federazione, ma non solo. Credo in tutti gli sport, non dobbiamo pensare solo al numero di atleti, abbiamo dirigenti, abbiamo medici, abbiamo una quantità infinita di figure che ruotano intorno al mondo dello sport e che hanno poi una ricaduta anche su quella che è la società civile. L'inclusione che porta avanti il discorso a livello femminile credo che sia un potenziale assolutamente da sviluppare e sul quale investire. Soddisfatto anche il presidente di Banca Macerata per l'investimento fatto in questo sport. In termini di trasmissione di valori etici e di voler favorire la crescita sana dei ragazzi che è la cosa a cui noi più teniamo, fin da quando abbiamo iniziato a sponsorizzare questa bellissima squadra di rugby che vediamo che cresce bene, cresce sana, cresce nei numeri, cresce nel genere. Insomma, noi siamo davvero contenti ma soprattutto siamo contenti della passione, della costanza con la quale i dirigenti portano avanti questa iniziativa. Siamo davvero contenti. Chiudiamo con l'assessore Canesin che promette un nuovo impianto per la società accanto al centrofiere di Villa Potenza. Nel giro di breve tempo ci sarà questa acquisizione da parte dell'amministrazione comunale con l'irce dell'aria per il campo da rugby. Questo è il primo passo per poter avere l'aria, per poter fare una progettazione seria di un nuovo campo da rugby e questo è il futuro del rugby in Macelladese e in quell'area lì. Noi siamo in chiusura. Vi ricordiamo che come di consueto tutte le news le potete trovare pubblicate anche sul nostro sito www.etvmarque.it È tutto per questa edizione. Grazie dunque dell'attenzione e buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.